Buongiorno a tutti e benvenuti nella settimana dell'arte il giorno di oggi è dedicato al gusto perciò vi proponiamo di disegnare sul vostro piatto qualsiasi cosa vogliate utilizzando però solo gli alimenti aspettiamo le vostre foto e i vostri commenti intanto guardate cosa hanno fatto le bimbe del mini volley di pedagna ciao con queste tipiche frutta e verdura ora ho figurato la mia mamma invece per le pupille ho usato due tic tac questa è la mia amica e si chiama Rebecca ora mi mangio un attimo il dentino ciao ciao ciao